Dunque, come promesso, iniziamo a lavorare sull'esercizio nel quale ripasseremo in pratica i concetti che abbiamo rivisto sulle collections, in particolare sulle liste. Lo faremo con un esercizio che mira a simulare la gestione di un semplice libretto universitario, tanto per usare uno strumento, un insieme di informazioni che è familiare a tutti noi. Quindi il libretto è un oggetto che contiene dei voti, contiene degli esami e è possibile fare delle operazioni su questo insieme di voti. Quindi partiamo dalla conoscenza che tutti abbiamo del contenuto di un libretto universitario e cerchiamo di costruirci qualche operazione sopra. L'obiettivo chiaramente non sarà quello di costruire un'applicazione per il momento molto utile o completa, ma soprattutto fare un po' di ginnastica applicata sull'utilizzo delle liste, sull'utilizzo delle collections e soprattutto su quelle che possono essere le trappole a cui possiamo andare incontro. Questo esercizio è abbastanza lungo e articolato, non è difficile ma è un po' lungo, quindi lo spezzeremo quasi in diverse parti. Ecco, c'erano 9 punti nel testo e ognuno dei punti in qualche modo cerca di esporre alcune delle trappole o dei suggerimenti o dei pattern di programmazione per cui ci debbiamo obituare e che poi utilizzeremo in tutto il resto del corso essenzialmente. Allora, magari diamo un'occhiata, una prima lettura ai primi punti di questo esercizio, leggiamolo insieme. Io sto prendendo il testo che è stato già pubblicato su GitHub, su tdp2020-libertovoti e possiamo iniziare a leggere insieme, come dicevo, le prime righe. Ingrandisco solo un pochino, così è più comodo, diciamo, di leggerlo online sul video per tutti. Allora, il testo dice di realizzare un programma per la gestione semplificata di voti in una carriera universitaria e il programma si basa su una classe voto. Quindi già il primo insegnamento è tutte le volte che devo rappresentare un tipo di dato, creo una classe apposita. Se devo memorizzare il nome del corso e il voto ottenuto, non avrò una struttura dati per i nomi dei corsi e un'altra separata per i voti, ma creo una classe voto che avrà questi tre attributi. Nome del corso, voto ottenuto, dato esame. È una classe libretto che gestisce un elenco di voto. Questa classe libretto sarà essenzialmente una lista di voti, però io voglio incapsulare questo elenco di voti, questa lista di voti in una classe di più alto livello che nel rappresentante di funzionamento, perché poi non è detto che sia solamente una lista, perché magari questa lista avrà dei metodi che permette di elaborarli sapendo che sono dei voti e non genericamente un array list che mette insieme degli oggetti, però non ha nessuna, diciamo così, comprensione del significato di questi oggetti. La classe libretto soprattutto deve avere un metodo add per il caricamento degli esami, per l'aggiunta ai nuovi esami e ci dice implementare queste funzionalità sviluppando un programma di test che le attivi. Cioè questo è abbastanza frequente, nel senso che noi sviluppiamo in questo caso due classi, una classe voto e la classe libretto e poi per ciascuna classe che sviluppiamo, per almeno ciascuna classe che abbia dei funzionamenti non banali, sviluppiamo una classe di test. In questo caso test libretto testerà il libretto, testerà la classe libretto. Quindi il metodo main attiverà un programma il quale eseguirà i test sulla classe libretto. Prendiamolo come abitudine, quando sviluppiamo qualche cosa, il test cerchiamo il più possibile di automatizzarlo. Adesso qui non vedremo in questo corso i test in framework, cioè esistono proprio delle librerie, degli ambienti nei quali sviluppare i test e poterli applicare in modo automatico. Ma perlomeno manualmente ci creiamo sempre una classe di test che faccia un po' di prove sulla classe che stiamo sviluppando. Quindi svilupperemo in parallelo la funzionalità e il test della stessa funzionalità, avanti e indietro, fino a quando, diciamo così, non avremo coperto tutte le funzionalità che dobbiamo realizzare. Partiamo da qui, quindi. Io in Eclipse ho già importato il progetto, il libretto voti che trovavamo su GitHub, e quindi possiamo cominciare a lavorare. Questo progetto GitHub l'ho importato sulla base dell'archetipo Maven con cui lavoriamo nel corso, quindi lui si porta dietro tutta la parte di JavaFX, di interfaccia grafica, eccetera, che al momento non ci serve. Ecco, quello che è suggerito nel testo ci dice che per il momento questa classe libretto viene richiamata da un semplice main di prova, ma dobbiamo progettarla in modo da poter essere richiamata anche nel contesto di interfaccia grafica. La volta scorsa, nell'ultima lezione, abbiamo imparato appunto che dobbiamo, ci conviene tenere ben separato quello che è la gestione dell'interfaccia grafica, vista e controllore, da quella che è la gestione dell'algoritmo, che in questo caso è il modello. Quindi noi impareremo adesso a creare un model che sviluppa certe operazioni. Questo model può essere richiamato tranquillamente da un programma di prova, da un programma di interfaccia testuale, oppure potrà essere richiamato, agganciato da un controller che ne attiva le funzionalità in modo grafico e ne estrae e visualizza i dati in modo grafico. Quando noi sviluppiamo il modello, possiamo chiamarlo così adesso, e quindi lo creeremo in un package che si chiama .model rispetto all'applicazione, lo sviluppiamo senza, possibilmente, il più possibile, senza tener conto delle esigenze dell'interfaccia grafica. E poi è chiaro che qualche cosa si dovrà aggiungere, nel momento in cui lo incolliamo all'interfaccia grafica, se non altro i metodi per restare i dati che vogliamo visualizzare, ma concettualmente la parte algoritmica non la dovremmo più toccare. Ok, allora vuol dire che all'interno del nostro progetto libretto creiamo innanzitutto un nuovo package, new package e questo package sarà .model libretto tdplibretto.model Quindi creiamo questo package model all'interno del quale inseriremo tutte le classi che sono deputate alla gestione, come dicevamo la volta scorsa, degli algoritmi e delle strutture dati. E queste classi per il momento ci saranno tre. Ci sarà una classe voto, sicuramente. Ci sarà una classe, comincio a crearla, ci sarà una classe libretto, nuova classe libretto, e ci sarà una classe di prova. potremmo avere un altro package test separato, ma per semplicità, per avere tutto comodo. Per il momento il programma è molto semplice, creiamo semplicemente una classe di test che chiamiamo test libretto nella stessa package in cui c'è il libretto stesso. Questo deve essere una classe test libretto, sì, che permette di avviare il programma, quindi dovremmo dire che in questa classe chiediamo ai clips di generarci il metodo main automaticamente. E qui abbiamo una classe test libretto con il suo main già predefinito. Queste classi sono vuote, partiamo magari dal basso, partiamo dalla classe più semplice, la classe voto. La classe voto che cosa deve contenere? Allora, il testo mi dice, deve rappresentare gli oggetti di tipo voto. Un voto è composto, ci dice il testo, dal nome di un corso, dal voto ottenuto in quel corso e dalla data dell'esame, dalla data nella quale abbiamo sostenuto l'esame, quel voto. Quindi abbiamo solamente gli esami superati, non tutti gli esami della nostra carriera. Quelli già superati e quindi so già qual è la data di superamento e qual è il voto che ho ottenuto. Queste tre informazioni sono di fatto le tre proprietà di questa classe. Quindi vorrà dire che questa classe avrà un campo private di tipo stringa, che è il nome del corso, un campo private di tipo voto ottenuto, quindi lo possiamo chiamare voto, adesso chiediamo, scusate, che è un intero, e un altro campo che rappresenta la data. private, scusate, non riesco a scrivere, private, data, date, data. Allora, ragioniamo un attimo sui nomi e sui tipi di questi campi. Allora, il nome sarà il nome del corso. Possiamo chiamarlo nome, possiamo chiamarlo nome corso, possiamo chiamarlo corso. Ricordiamoci che è un attributo di voto. Allora, di questo voto, qual è il nome? Forse non ha molto senso. Qual è il nome di un voto? Un voto non ha un nome. Qual è il corso rispetto a cui hai preso questo voto? Quindi forse sarebbe meglio corso. Scegliere i nomi è sempre molto difficile, quindi scegliere bene i nomi è quello che ci permette di anche, diciamo così, più facilmente evitare errori in futuro. Questo è un nome tipo stringa. Ad esempio, questo potrebbe essere il corso di tecnica di programmazione. Poi abbiamo il voto. Qual è il valore di questo voto? Adesso qui rischiamo di fare un po' di confusione perché la classe si chiama voto e il numerino, cioè ho preso 28, magari 30, si confonde il valore numerico del voto che ho preso con il nome della classe che rappresenta tutto l'oggetto che comprende non solamente il voto ma anche il nome, la denominazione. Io però non riesco a trovare un nome, una denominazione più chiara, che non questa, e quindi manterrei questa così com'è. e poi la data, la data in cui ho superato l'esame, quindi potrebbe essere, che ne so, non so, non sappiamo ancora esattamente quando saranno gli appelli, diciamo che saranno il 15 giugno 2020 e questa sarà la data. Allora, per rappresentare una data in Java, noi possiamo utilizzare due tipi di classi. La classe date predefinita e se andiamo a vedere l'autocompletamento di Eclipse ci dice che la classe date è definita all'interno del package java.util. La classe java.util.date è una classe che esiste nel libro di Java sin dalle primissime versioni e ha un milione di problemi. è una classe che, sì, sì, può essere usata, è la classe base per rappresentare dati di tipo, appunto, calendario, ma impareremo poi che preferiamo non usarla essenzialmente. Farò una lezione apposita sulle date, proprio perché le date è un argomento abbastanza rognoso, ecco, il nome giusto è quello, è complesso e si porta molto spesso alla riprogrammazione. Non è questo ancora il momento in cui lavoreremo sulle date, come dicevo faremo una lezione apposita più avanti, per ora vi dico semplicemente che il punto d'arrivo a cui arriveremo quando faremo questa lezione è di non usare la classe java.util.date, ma usare una classe che si chiama invece local.date che si trova in un package java.time. Questo package java.time è stato introdotto dalla versione java 7 in avanti e devo dire che ha cambiato radicalmente il modo di lavorare con le date sia in termini di proprio metodi offerti da queste classi ma sia soprattutto in termini di protezione dagli errori di programmazione. Quindi ricordiamocelo per il futuro, abbiamo scelto di usare local.date come tipo di dato, come classe per memorizzare le date e più avanti cercheremo anche di capire in quale lezione è dedicata sulle date il perché e quali sono i vantaggi. Per ora fidatevi che è una buona scelta. A questo punto queste sono tutte le proprietà che la classe voto deve avere e sono tutte e tre proprietà private. Il principio base di incapsulamento nella programmazione di oggetti dice che gli oggetti devono avere le proprietà che queste sono riservate ai metodi dell'oggetto stesso. Quindi ogni oggetto deve avere a questo punto dei metodi per poter accedere a queste proprietà. Metodi che sono di due tipi, innanzitutto c'è il costruttore e poi ci sono i famosi getter e setter. Allora per fortuna la classe voto è una classe che non ha una particolare logica interna, non ha un'intelligenza, è semplicemente una classe contenitore di valori. Più avanti come pattern di programmazione lo chiameremo DTO, Data Transfer Objects è un oggetto che serve solamente per trasferire dei dati, non ha un'intelligenza sua. Allora questi oggetti sono molto facili da creare perché Eclipse può fare tutto il lavoro per noi. Una volta che abbiamo definito quali sono gli attributi che ci servono, privati, col menu Source di Eclipse possiamo innanzitutto farci generare il costruttore genera il costruttore usando i campi, general construction using fields e mi dice, ok, quali mi genera il metodo costruttore e io devo specificare quali sono i campi che costituiranno i parametri del costruttore. In questo caso mi vanno bene tutti e tre, magari genero anche i commenti e mi crea il costruttore. Quindi il costruttore è questo, publicVoto, è sempre un metodo pubblico, deve essere pubblico se noll'oggetto non potrò mai crearlo, che si chiama nello stesso modo dell'oggetto, della classe e non ha ovviamente tipo di dato di ritorno. In questo caso riceve tre parametri e questi tre parametri li memorizza nelle variabili. Quindi il primo parametro corso lo memorizza in dis.corso che è appunto questa proprietà e così via. E oltre al costruttore, ecco, questa sintassi particolare è la sintassi cosiddetta javadoc che io ho fatto, diciamo così, aggiungere al costruttore e mi permette di documentare tutti i metodi che sto creando. Quindi costruisce un nuovo voto. Parametro corso che è il nome del corso superato. Il parametro voto è il valore del voto acquisito. E il parametro data è la data di superamento dell'esame. A cosa serve scrivere queste cose? Serve per generare automaticamente la documentazione di questo metodo. Per cui se io adesso andassi qua sopra, sulla classe, mi fa vedere esattamente il riquadrino di documentazione con ciò che ho scritto. Quindi abituiamoci a farlo su quasi tutte le funzioni, perlomeno quelle che vogliamo che siano richiamate dall'esterno. La stessa cosa la posso fare a livello di classe. Se vado sulla classe la documentazione per il momento è vuota, però io posso sempre inserire un blocco javadoc, basta che voi facciate slash, asterisco, asterisco, invio, e lui vi crea, diciamo così, il template con i campi principali. Per una classe non ci sono campi predefiniti, per le funzioni e metodi ci sono i parametri, ad esempio, e le funzioni anche i valori di ritorno. E qui dentro possiamo scrivere, diciamo classe vuoto contiene le informazioni su un esame superato. Un esame superato. E quindi a questo punto anche la classe vuoto, come vediamo, automaticamente sarà documentata. Sarà documentata non solamente qui, ma quando la userò altrove, avrò sempre, cioè comparirà, e clips mi mostrerà sempre la documentazione della classe. Quindi costa poco scrivere tre righe, abituiamoci a farlo. Allora, la classe, proprietà, costruttore, passo successivo è getter-setter. Quindi sempre andiamo in source e chiediamo ad eclipsi generare getters and setters. Getter-setter sono i metodi get-corso, set-corso, get-data, set-data, get-voto, set-voto, che i clips potranno generare per noi. Nel caso in cui non dobbiamo fare nulla di particolare, perché è un oggetto che deve solo contennere dei valori, possiamo farli generare tutti. Se volessimo che alcuni di questi campi fossero in sola lettura, non fossero più modificabili o altro, basterà inibire i metodi set. In questo caso, se io facessi generare solamente i metodi get, non ci sarà più modo di modificare il nome del corso, non ci sarà più modo di modificare la data nel voto, perché non esiste un metodo set. Quindi nel momento in cui creo un oggetto nuovo voto, gli darò quei valori, quei valori li potrò leggere in seguito, ma non potrò più modificarli, a meno di non avere ulteriori metodi dell'oggetto che li modifichino internamente. Quindi qua, in questo caso, stiamo facendo la scelta se le proprietà dell'oggetto siano proprietà visibili dall'esterno, perché io potrei non avere il getter e quella proprietà non la vedo, oppure visibili in sola lettura, oppure visibili in lettura e scrittura dall'esterno. Questo è il caso più semplice, visibile in lettura e scrittura, non è necessariamente il migliore, perché, come sempre, se abbiamo una protezione maggiore, una visibilità minore, quindi evitiamo, diciamo così, che altri ci manipolino i dati in modo, magari, errato, in modo che non ci aspettiamo. Per il momento non ci preoccupiamo, sono metodi pubblici, quindi chiunque li puoi chiamare, e li facciamo generare. A questo punto, automaticamente, Eclipse ci ha generato questi sei stupidi metodi. E a questo punto, la classe voto è quasi pronta. Il voto da solo non fa nulla, ma serve per poter costruire un libretto. Quindi la classe libretto è la classe nella quale memorizza e gestisce un insieme di voti superati. Allora, la classe libretto deve avere, ovviamente, un suo costruttore. Quindi, dunque, chiedo Eclipse, Sorgente, Genere Costruttore. Pardon, non ho ancora nessun campo, quindi non ne scusate, devo prima inserire delle proprietà. Allora, quali proprietà ha la classe libretto? Beh, la libretto sicuramente avrà come proprietà una lista di voti. Quindi, private, list, voto, voti. Essenzialmente, il libretto dovrà gestire questa struttura dati privata. List, ovviamente, è una classe che dobbiamo specificare da dove arriva e arriverà da java.util. punto list. Fate attenzione a rallentare i vostri riflessi perché molto spesso uno clicca la prima cosa che vede e la prima cosa che vede è sbagliata perché java.avt.list esiste ma non c'entra niente con la nostra lista. Quindi, java.util.list importiamo già punto list in modo che questo list punti all'oggetto corretto. Ok, questo è un oggetto, scusate, è una proprietà dell'oggetto libretto, della classe libretto, che nel momento in cui viene dichiarata verrà dichiarata senza un valore, non è stata inizializzata nulla. Per inizializzare quel valore lo dovremmo fare in teoria dentro il costruttore. Quindi adesso a questo punto possiamo generare un costruttore al quale però chiediamo di non inizializzare il campo voti. Cioè, quello che sto facendo è di inizializzare un libretto senza parametri. Il libretto quando nasce nasce vuoto. Quando nasce vuoto io non devo dall'esterno passargli un parametro che contenga già i voti, che contenga già una lista. Questa è una proprietà veramente privata che viene gestita dal libretto stesso. Quindi il libretto crea, il costruttore crea un libretto vuoto, un libretto nuovo, nuovo, vuoto, quindi non ha bisogno di informazioni per sapere come crearlo, non ha bisogno di parametri, semplicemente creerà un nuovo libretto. Per crearlo deve istanziare l'array list, la lista. Questa dichiarazione voti è solamente un riferimento, una variabile che punterà a una lista, a un oggetto di tipo list. Questo oggetto di tipo list non c'è ancora, lo devo creare qua. Quindi this.voti uguale new array list di voto. Aperta tonda e chissà tonda. Allora, cosa sto facendo qua? Sto creando, finora qui ho un riferimento che in realtà vale null, non punta ancora da nessuna parte, ma è predisposta per puntare una lista di voto. e finora non c'è nulla. Io quando creo un array list innanzitutto creo una struttura di dati reale basata su una classe array list e non più su un'interfaccia, quindi sto creando un oggetto vero parametrizzato nel modo giusto, parametrizzato con voto. La sto inizializzando per il momento senza parametri, quindi non devo dare nessun valore iniziale. Il costruttore di lista non ha bisogno di parametri particolari e quindi sto creando un oggetto che è una lista e quindi sto dicendo che il mio puntatore voti che avevo dichiarato qua adesso lo inizializzo facendolo puntare a questa array list vuota. Questa inizializzazione la posso mettere qui, la potrei anche mettere equivalentemente qua. Se il costruttore non deve fare null'altro che creare le strutture dati su cui lavorano le variabili allora è più comodo accoppiare la dichiarazione della variabile con l'inizializzazione della variabile stessa. Perché? Perché così siamo sicuri che questo voti non sarà mai null' perché nel momento in cui lo dichiariamo immediatamente gli diamo un valore sensato. Il costruttore ha senso di esistere se deve fare anche altre operazioni oltre alla creazione delle strutture dati e all'inizializzazione delle strutture dati senza nessun parametro. È chiaro che se questo libretto avesse qualche parametro sulla base del quale dovesse decidere se questa array list la inizializza in un modo oppure in un altro allora lo dovrò fare sicuramente nel costruttore perché nell'inizializzazione del voto non ho la possibilità di ricevere questi parametri e queste informazioni. Per il momento noi possiamo tranquillamente usare la forma breve di inizializzazione non ci serve una classe costruttore vera e propria. Se poi ne avessimo bisogno saremo sempre in tempo ad aggiungerla. Ovviamente dicevo una list non posso creare non posso mai non potrò mai fare new list perché list è un'interfaccia vedete questa i qua davanti è un'i come interfaccia dovrò solamente sempre creare una classe un oggetto a partire da una classe. Array list oppure linked list boh non lo sono la volta scorsa dicevamo una array list è più efficiente per alcune cose la linked list per altra bisognerebbe capire o magari anche sperimentare quale delle due sia più efficiente nel nostro caso particolare ma visto che in tutto il resto del programma tranne che qua su questa riga 13 useremo sempre list e non ci sbilancieremo mai su array list oppure linked list sarà facile eventualmente poi modificarlo quindi per il momento possiamo lasciare array list ricordiamoci ovviamente sempre di importarlo da java.util array list abbiamo quindi creato una lista vuota che contiene zero elementi per il momento e potrà però contenere un numero arbitrario e limitato di elementi di oggetti tipo vuoto un'altra cosa che si può fare che è comodo fare è omettere il nome del generico qua tra questi due simboli perché dalle versioni recenti da java 7 in avanti anche java 8 java è diventato come linguaggio un pochino più intelligente e quindi riesce a dedurre da solo quali sono i tipi di dati non inserire un'informazione è sempre meglio quindi meno cose scrivo meglio è perché ho meno possibilità di errori e soprattutto se un domani dovesse decidere che questa lista contiene un oggetto diverso lo modifico solamente qua e il resto del programma lo deduce da solo quindi questo segno che minore maggiore a volte si chiama diamante come simbolo è semplicemente una scorciatoia per dire guarda caro java tu lo puoi capire da solo che per poter assegnare questa rlist a questa lista di voto ovviamente se questo chiede dei voti questa rlist dovrà contenere dei voti quindi chiedo a java capiscilo da solo essenzialmente e quindi mi evito di dover scrivere una parola in più e potenzialmente sbagliarla o potenzialmente avere un punto in più da correggere da modificare se dovessi modificare questo parametro generico molti ragionamenti che faremo saranno di questo tipo mi conviene prendere una strada piuttosto che un'altra pensando al fatto che in futuro dovrò modificare il programma pensando al fatto che in futuro dovrò correggere gli errori pensando al fatto che in futuro il programma dovrà essere leggibile e così via quindi noi facciamo dei piccoli passi delle piccole scelte pensando a noi stessi nel futuro che tra un giorno due giorni cinque giorni un mese dovremmo rimettere le mani su questo codice e quindi ci stiamo già facilitando la vita fin d'ora stiamo scrivendo poche libri di codice stiamo ragionandoci molto no? ma perché queste cose dovranno diventare poi un'abitudine di lavoro per tutti noi ok finora abbiamo costruito un libretto che non contiene nessun voto perfetto adesso il testo cosa si dice? prima cosa aggiungi un metodo add per il carbicamento degli esami al metodo alla classe libretto ok la classe libretto quindi dovrà avere un nuovo metodo public add per raggiungere esami allora metodo add per raggiungere esami se aggiungo qualche cosa probabilmente non ho bisogno di restituire nessun valore void e qui dentro dovrò inserire il valore allora qual è il codice che ci servirà per aggiungere questo nuovo voto qual è il modo migliore per definire questa funzione? io ve ne propongo due allora il primo potrebbe essere voto e il secondo potrebbe essere diciamo string corso voto int voto virgola local date data tra l'altro nulla vieterebbe di definirli entrambi ovviamente perché i metodi c'è l'overloading dei metodi per cui sono metodi che sono facilmente distinguibili dal fatto che hanno dei parametri di tipo diverso e quindi il compilatore java li potrebbe accettare entrambi nello stesso oggetto ma noi ci chiediamo è meglio il primo metodo o il secondo metodo immaginando che questa classe questo metodo possa essere usato da altre classi per poter raggiungere dei voti allora io voto assolutamente ho fatto una piccola pausa di suspense ma in realtà voto assolutamente per il primo perché perché se per caso la classe voto dovesse un domani cambiare per cui decidessimo qua di inserire un campo in più per la lode un campo in più per dire se questo esame è magari stato acquisito in Erasmus o per qualche altra informazione aggiungeremo un campo nella classe voto e allora se aggiungiamo un campo dovremmo aggiungere un campo nel metodo add e in tutti i punti del programma che chiamano il metodo add allora stiamo in questo modo se facessimo la scelta della riga 20 staremmo creando una dipendenza di libretto su voto cioè vuol dire che la classe libretto deve essere modificata dipende dalla classe voto ogni volta che modifico la classe voto dovrò necessariamente andare a ricontrollare e eventualmente modificare la classe libretto meno dipendenza è uguale meno lavoro quindi per raggiungere un voto una lista non ho bisogno da un elenco non ho bisogno di sapere come è fatto un voto dentro mi basta sapere che è un voto poi è chiaro che qualcuno dovrà questo voto costruirlo con il corso eccetera eccetera ma questo facciamolo fare a chi ci chiama a chi invoca il metodo add quindi l'altra regola generale che cercheremo di seguire il più possibile usiamo sempre oggetti mai dati sparsi quando possibile i parametri delle funzioni saranno sempre oggetti che a loro volta contengono i dati ma mai i dati singoli sparsi giunti così da spicciolata come sempre ci facciamo del bene per il futuro allora questo punto è facile perché noi abbiamo già un voto che qualcuno ha creato per noi un oggetto voto che esiste già dobbiamo semplicemente aggiungerlo a queste release che poveretto iniziava era vuoto inizialmente e quindi dovremmo semplicemente aggiungere alla dis.voti .add il voto v che mi è stato passato come parametro e ho finito questa operazione quindi mi prende un voto e lo aggiunge all'elenco dei voti già esistenti dis.voti io ho l'abitudine di renderlo sempre esplicito voi sapete che se non usassi il dis questo nome voti verrebbe comunque risolto facendo riferimento a questa variabile perché nello scope nell'ambito di questa parentesi graffe non esiste nessuna variabile che si chiama voti allora Java va a cercarla nell'ambito più ampio che è quello di questa parentesi graffe e lo trova definito qua quindi fa una ricerca dall'interno verso l'esterno di un nome però è sempre meglio rendere esplicito che sto parlando della variabile della proprietà voti dell'oggetto e non di un'altra variabile che si possa chiamare voti in giro questo è un altro pattern di programmazione che troviamo molto spesso ho un metodo add sull'oggetto libretto che non fa altro che chiamare il metodo add su un oggetto interno che in questo caso è un array list questa operazione è un'operazione che chiamiamo delega quindi la classe libretto ha un metodo add e l'unica cosa che fa il metodo add è di delegare l'operazione di aggiunta all'array list questo lo useremo molto spesso molto spesso per esempio a questo punto impariamo dei termini dei termini di questi pattern di programmazione e dicono che delegare significa avere un oggetto più complesso in cui uno dei metodi non fa altro che richiamare un metodo molto simile o molto spesso addirittura con lo stesso nome come in questo caso di un oggetto più semplice sottostante quindi magari faccio del lavoro di controllo e poi delego l'oggetto sottostante di fare il lavoro tra virgolette sporco di fare l'aggiunta vera del voto all'interno del libretto ok qui pare che abbiamo risolto il punto 0 cioè il libretto deve avere un metodo per il caricamento degli esami allora per testarlo cominciamo a creare questa classe di libretto che inserisca un elenco di 10 oggetti voto a piacere adesso 10 magari sono tanti sono un po' lunghi e noiosi facciamone alcuni quindi questa per noi è la classe libretto con il metodo add anche qua lo documentiamo aggiunge un nuovo voto al libretto il parametro v è voto da aggiungere questa è la nostra documentazione della classe B del metodo B ok proviamo a testarla quindi a questo punto andiamo in test libretto e eseguiamo il test allora come quasi sempre noi sappiamo che in Java e se non lo sappiamo ce lo andiamo a ripassare lavorare all'interno di un metodo statico è abbastanza limitativo perché io posso usare da qui dentro dall'interno di questo metodo posso richiamare solo altri metodi statici di altre classi e questo a volte può essere scomodo quindi per evitare di avere di lavorare con troppi metodi statici il che ci impedirebbe di fatto di fare eritarietà ci impedirebbe di fare polimorfismo eccetera poi quando i programmi diventano più complicati lo apprezzeremo questa questa possibilità quindi una delle domande che a volte mi hanno fatto è ma perché non facciamo tutto statico e ci dimentichiamo degli oggetti e no perché i vantaggi li vedremo quindi ogni volta che abbiamo un main conviene sempre creare un'istanza di della classe stessa quindi io il pattern che uso quando ho il programma principale definisco sempre un metodo che può anche essere privato se vogliamo void run che chiamo run per esempio esegui il programma vero e proprio e nel main non faccio altro che creare un'istanza di me stesso new test di pretto perché quando noi attiviamo un programma chiamiamo un metodo statico di una classe ma il metodo statico di una classe viene chiamato senza creare nessun oggetto di quella classe quindi non c'è ancora nessun oggetto test libretto io per avere delle proprietà se mi servissero anche delle proprietà da definire qua in questo test libretto le proprietà vengono definite sugli oggetti le dichiaro nelle classi ma le proprietà i valori li assumono sugli oggetti quindi fino a quando sono dentro lo metodo main l'oggetto test libretto non esiste ancora allora io nel main mi creo un oggetto test libretto e poi gli dico caro test libretto run vai fai il lavoro che devi fare e tutto il lavoro ce l'ho dentro questo tutto il lavoro che devo fare ce l'ho nel metodo run e non nel metodo main nel metodo run sono in un metodo di un oggetto e qui a questo punto potrei guardare le private posso usare il this posso usare le proprietà eccetera eccetera in questo caso non abbiamo bisogno però cominciamo a pensarci quindi l'altra regola che ci diamo non si lavora dentro il main ma si crea un oggetto e con un metodo di comodità si lavora all'interno di quel metodo dell'oggetto e non della classe il metodo statico è un metodo al definito di classe prima che venga creato l'oggetto non ci piace allora run cosa dobbiamo fare creare dei voti e metterli nel libretto ok allora dovrò definire un nuovo libretto lib uguale new libretto libretto e poi ci aggiungo dei voti dentro vedete che già qua ci viene voglia di far sì che questo libretto non sia una variabile della funzione ram ma diventi una proprietà dell'oggetto testlibretto così questo libretto potrà essere accessibile eventualmente anche ad altri metodi di questa classe quindi a questo punto ha maggior ragione magari spostiamo su questa cosa definiamo il libretto qua e nel metodo run come prima cosa creiamo un nuovo libretto e lo memorizziamo qua quindi semplicemente abbiamo portato la variabile libretto come proprietà della classe testlibretto in modo che sia accessibile da tutti i metodi di questa classe di test che vorranno utilizzarla la prima volta che diciamo la prima operazione che faccio su questo programma è di creare un libretto vuoto quindi crea un libretto vuoto e poi ci aggiungo dei voti ci aggiungo un voto b1 che sarà il voto voto di aperta parentesi quindi cosa devo scrivere lui mi dice corso voto data ecco perché mi ringrazio il me stesso di 10 minuti fa che ha scritto la documentazione perché così mi ricordo cosa devo scrivere nel costruttore quindi il corso sarà tecnica di programmazione il voto sarà ovviamente 30 e la data è ad esempio date.ov 2020 abbiamo detto 06 virgola 15 no 15 giugno 2020 fidatevi per ora su questo modo di creare le date localdate.ov anno, mese, giorno e così via posso creare un voto v2 new voto potrà essere analisi 2 e anche qua auguriamoci almeno un 28 localdate la diamo al secondo appello ov 2020 06 e 28 punto e virgola quindi creiamo degli oggetti voto e poi li aggiungeremo al libretto questo è tutto il lavoro che facciamo nel programma di test il libretto vero e proprio finora non ha fatto nulla ma poi dovrò aggiungere al libretto aggiungo v1 al libretto aggiungo v2 e poi ovviamente non sono obbligato a creare tante variabili v1, v2, v3 cioè se volessi potrei direttamente aggiungere new voto scritto così al volo economia 24 questa è già passata gennaio 2020 02 14 e quindi non abbiamo bisogno di creare tutte queste variabili aggiuntive e questo test libretto a questo punto fa il test diceva aggiungere 10 noi abbiamo aggiunti 3 per pigrizia dovrebbe già funzionare quindi possiamo già subito provare run as java application il test libretto ovviamente il quale parte e sembra che non faccia nulla nel senso che il programma è terminato senza stampare assolutamente nulla funziona funziona non funziona che cosa ha fatto vabbè non lo sappiamo possiamo provare a vedere stampiamo questo libretto vediamo che cosa esce se nel libretto ci sono i dati che ci servono allora rifacciamo run di test libretto sì devo salvarlo certo e fino a questa volta stampa qualcosa ma di non troppo soddisfacente nel senso che alla fine mi dice ah ho stampato il libretto ma anziché farmi vedere i voti che conteneva mi sta facendo vedere semplicemente che questo è un oggetto di tipo libretto e sta in questo indirizzo di memoria e vabbè grazie non mi serve perché mi sta facendo vedere questa schifezza perché nel metodo libretto non esiste il metodo libretto non dichiara come vuole essere stampato come essere visualizzato a noi serve definire un metodo toString su tutti gli oggetti che vogliamo poter convertire in stringa e in particolare poi stamparli quindi dobbiamo se vogliamo stampare far sì che l'oggetto libretto possa essere stampato definiremo un metodo che ha come risultato una stringa che si chiama toString e che in qualche modo dovrà ritornare una stringa che contiene il contenuto del libretto la cosa più semplice in questo caso visto che in realtà il libretto non contiene altro che una lista di voti di nuovo è delegare alla lista di voti di stamparsi quindi io dico allora la rappresentazione sotto forma di stringa testuale di un libretto non è altro che la rappresentazione testuale dell'array list o della list in generale che contiene i voti quindi this.voti .toString poi se volessi abbellirlo per carità lo posso fare ma come prima istanza stampare un libretto significa stampare i voti in esso contenuti e quindi sarà l'array list che sa come far stampare se stesso riproviamo a eseguire il terzo libretto e questa volta cambia un po' nel senso che mi dice guarda tu hai un elenco una lista di questo voto virgola questo voto virgola quest'altro voto e i voti non mi fa vedere quali sono maledizione perché a sua volta la classe voto non ha un metodo toString allora torno nella classe voto e aggiungerò un metodo toString per decidere come voglio visualizzare il voto allora esiste anche sempre nel menu source di Eclipse che è semplicemente un toccasana un metodo che si chiama una voce che si chiama generateToString che mi genera già lui il metodo toString semplicemente mi chiede quali sono i campi che io voglio mostrare perché non ho detto che li voglio mostrare tutti in questo caso li voglio mostrare tutti e quindi mi genera una cosa di questo genere voto corso uguale nome del corso voto uguale numero del voto data uguale valore della data qui non si vede ma in realtà sta delegando al metodo toString di local date al toString di integer al toString di string poverina è già una string quindi non ha bisogno del metodo toString quindi anche qua l'oggetto voto compone una stringa i cui pezzettini sono di nuovo ottenuti delegando all'oggetto local date la conversione da data a stringa se ci piace questo formato non possiamo far altro che tornare sul libretto fare run e mi dirà che questa volta il voto è una lista il libretto è una lista di tre oggetti un oggetto voto con i parametri corso uguale tecnica di programmazione voto 30 data questa il secondo oggetto voto con questi parametri e così via adesso magari scrivere tutte queste cose qua sono ridondanti per noi e allora andiamo a semplificarle anziché scrivere voto non mi piace perché so già che è sottointeso quindi potrei mettere semplicemente il corso anche senza la parentesi quadra a questo punto virgola voto e poi posso mettere semplicemente il numero del voto senza scrivere voto uguale e poi posso mettere la data magari tra parentesi così e tolgo la data uguale una forma un pochino più compatta adesso quella che mi piace rifacendo run ops ci sono scusate c'è un errore da qualche parte dunque return corso eh no non ci vogliono le virgolette qua corso che è il nome del corso poi una virgola no mettiamo solo uno spazio poi valore numerico del voto aperto tonda data chiusa tonda ok salviamo eseguiamo ok tecnica di informazione 30 no manca qualcosa mancano due punti dai qui mettiamo due punti e prima del numero salvo torno sul libretto stampo ok e quindi ho la stampa del libretto non è non è ottimale magari noi i voti siamo abituati a vederli uno sotto l'altro allora sì il formato di singolo voto può andar bene ma averli di fila separati da virgola al dentro parentesi quadre non ci piace tanto chi è che ha messo la parentesi quadre e la virgola e l'ha messo il to string dell'arraylist non ci piace e allora ce lo facciamo noi non c'è problema noi a questo punto anziché usare il to string di arraylist perché ce li formate in questo modo costruiamo noi una stringa s come piaccia a noi quindi la inizializziamo come stringa vuota e poi per tutti gli elementi dell'arraylist quindi per voti v vuoto v due punti this punto voti e qui iteriamo sempre così su una collection non andiamo mai a fare un ciclo un indice i che itera sugli elementi per iterare su una collection usiamo la sintesi semplificata del ciclo for che prende una variabile di tipo oggetto e itera su tutti i valori della collection che ovviamente saranno di questo tipo e quindi aggiungerò s allora aggiungerò s il v.to string e poi e poi andrò a capo aggiungo barra n quindi questa to string adesso metterà una sotto l'altra andando a capo le rappresentazioni dei singoli voti e quindi cambia leggermente di nuovo il formato di stampa c'è qualcosa di rosso cosa mi dice ah si sto ritornando il valore return s test libretto vai e mi stampo uno sotto l'altro quindi noi anziché impazzire qua dentro dentro la classe di test a stampare il libretto come lo stampo vado a prendere il primo elemento il secondo il c'è il terzo di nuovo chiedo costruisco gli oggetti in modo che siano capaci a stamparsi da soli usando dei metodi che sono predefiniti il metodo to string è predefinito a livello di object di tutti gli oggetti java se non lo definiamo noi come ci dice questa cosa qua in giallino dice se non lo definisci tu io prendo il nome della classe ci metto una chiocciola e poi l'indirizzo di memoria però non è mai quello che ci serve ok abbiamo fatto forse il primo punto del nostro esercizio abbiamo aggiunto inserito nel libretto un elenco di oggetti voto a piacere abbiamo cercato di seguire un pochino quelle che sono le linee guida per creare gli oggetti quindi proprietà private il costruttore get resector perché per il momento non abbiamo utilizzato metodi to string per visualizzare gli oggetti adattandoli e cercando ogni volta che fosse possibile di delegare agli oggetti sottostanti un certo comportamento l'aggiunta l'abbiamo delegata la conversione string l'abbiamo delegata e così via così ogni oggetto farà bene il suo lavoro e noi ne beneficiamo senza dover rifare il lavoro che fanno già gli oggetti stampare vediamo stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25 allora come possiamo fare questo secondo punto quindi proviamo ancora in questo in questo primo diciamo così trance dell'esercitazione a fare ancora questo secondo punto stampare tutti i corsi in cui il voto è pari a 25 vabbè questo è si può fare in modi diversi lo può fare la classe test libretto la classe test libretto può decidere lei di stampare i voti di un sotto insieme degli esami adesso l'unica cosa che può fare in questo caso che ha fatto è stampare l'intero libretto potrebbe la classe test libretto accedere al contenuto del primo voto del secondo del terzo e purtroppo no perché la classe libretto è molto povera di metodi quindi per il momento è solamente il metodo add per aggiungere il voto e il metodo tostring per stamparli questi voti quindi qual è il modo migliore di implementare questa funzionalità dobbiamo sicuramente aggiungere qualche metodo alla classe libretto allora mi vengono in mente due modi di lavorare uno è creare un metodo una sorta di tostring nella classe libretto che generi una stringa la rappresentazione uguale al metodo tostring solamente dei voti dei corsi in cui voto è pari non 25 ma un parametro che gli è stato passato questo sarebbe semplice da implementare il libretto.java basterebbe dire costruire un metodo public string diciamolo stampa voti uguali a int voto quindi stamperà i voti solamente uguali a un certo a il stamperà le informazioni sugli esami solamente se sono relativi a un certo voto allora questa qua sarà una versione molto simile a tostring che mettiamolo qua come commento dato un libretto restituisce una stringa nella quale vi sono solamente i voti pari a 25 ah scusate al valore passato come parametro e quindi il voto è il valore specificato e la stringa formattata per per visualizzare il sottolibretto quindi abbiamo creato un metodo che ci crea la stringa come piace a noi torniamo qua nel test libretto e quindi potremmo dire allora stampami non tutto il libretto punto printline non tutto il libretto ma solamente i stampa voti uguali a 25 ovviamente qua non abbiamo di voti di 25 quindi facciamo finta che analisi 2 abbiamo preso 25 anziché 28 oppure no facciamo il contrario mettiamo 28 qui è più bello dai non abbassiamo un voto solamente per eseguire l'esercizio quindi rifaccio run e ciò che salta fuori espando nuovamente la console ebbè no sono stupido perché non ho modificato nulla quindi le stampa ancora tutti dovrò aggiungere un controllo qui sull'altro stampa voti uguali solamente se v.voto getVoto uguale a voto allora potrò concatenare la stringa altrimenti no quindi aggiungo la stringa solamente i voti v iq il voto è uguale al parametro che gli ho passato quindi in questo caso il mio metodo stampa prima stampato in questa prima chiamata stampa libretto me li stampa tutti e poi in questa seconda chiamata stampo voti uguali a 28 mi è stampato solamente il 28 funziona fa ciò che deve fare il problema è che io sto in qualche modo riducendo l'utilità di questo metodo stampa voti uguali perché mi restituisce una stringa e quindi io ho un metodo che genera una stringa che è solo pronto che può essere solo usata per stampare qualche cosa quindi esiste un metodo più furbo di poter realizzare la stessa cosa perché io un metodo per stampare il libretto ce l'ho già che è questo semplicemente stampa tutto il libretto io ne vorrei stampare solamente una parte ma magari su quella parte del libretto vorrei fare anche altre operazioni vorrei selezionare tutti i voti pari a 25 pari a 28 e poi magari aggiungerne uno e poi magari ordinarli poi magari stamparli poi magari decidere di dare l'esame quello che volete allora un altro modo di poter fare operazioni di questo genere in questo caso ci chiede stampare tutti i corsi di cui voto a pari a 25 io lo posso rileggere in modo diverso crea un nuovo libretto partendo da quello attuale che contiene solo i voti pari a 25 e poi stampa questo nuovo libretto poi magari lo butto via fa lo stesso però è più generico perché a quel punto ho un oggetto di tipo libretto che conterrà un elenco di corsi non contiene una stringa che posso prendere stamparla e basta ma conterrà un elenco di corsi che se voglio posso stampare ma se ho altre esigenze lo potrò lo potrò usare perché è un oggetto libretto vero e proprio quindi in questo caso anziché questo metodo stampa voti uguali a me piacerebbe molto di più scrivere un metodo public che non mi restituisce una stringa ma mi restituisce un libretto mi restituisce un nuovo libretto che ottengo dal libretto attuale filtrando rispetto al voto quindi creo un nuovo libretto questo metodo lo posso chiamare estrai voti estrai voti uguali a un certo intero che è il voto e cosa fa questo metodo questo metodo scriviamolo sempre conviene io mi obbligo quasi sempre a scrivere il commento prima di scrivere la funzione perché il commento è un pochino un contratto cioè io mi convinco e vi convinco che so che cosa dovrà fare questa funzione e poi cerco di far sì che questa funzione lo faccia prima di scrivere il codice poi magari uno si perde nel codice la cosa non è banale si distrae e perde un po' di vista l'obiettivo quindi dichiariamo sempre bene che cosa fa questa funzione questa funzione genera un nuovo libretto a partire da quello esistente che contiene che conterrà esclusivamente i voti uguali con votazione votazione pari a quella specificata pari a quella specificata punto quindi il parametro voto è la votazione specificata e ritorna un nuovo libretto così diciamo così traverete ridotto allora detto così algoritmo non è molto complicato io devo semplicemente creare un nuovo libretto e metterci dentro i voti che sono pari a questo e non metterci dentro i voti che non sono pari a questo quindi in questo caso avrò creare un nuovo libretto nuovo uguale new libretto e poi a questo libretto aggiungerò solamente i voti che voglio io quindi for voto v v due punti dis punto voti per tutti i voti che sono in questo libretto ricordiamoci che il campo voti lo posso leggere perché sono dentro la classe libretto ma nella classe test libretto non lo potrei leggere per questo ho bisogno di un metodo qua dentro non posso pacioccare i voti dall'array list non lo vedo mai dall'esterno ok perché il controllo le operazioni che posso fare su quell'array list le voglio controllare io quindi per tutti questi elementi se per caso v punto getVoto è uguale a voto questo parametro che ho ricevuto allora il libretto nuovo al libretto nuovo aggiungerò il voto v e di nuovo sono contento di aver messo un metodo adder che riceveva come parametro un oggetto voto perché nuovamente tutta questa operazione la posso fare senza sapere quali sono tutti i campi che compongono l'oggetto voto tranne ovviamente il campo voto perché è quel che mi serve su cui devo lavorare fatto questo ritorno nuovo e sono a posto ho creato un nuovo libretto una nuova array list la cui array list contiene solamente i voti che mi servono e questo è generico generale serve a più scopi quindi di nuovo è un principio di applicazione che dice lavoriamo con oggetti non con string prima ho detto non con dati sciolti adesso lo generalizzo non con string cioè un oggetto che impacchi in una stringa tutta una serie di informazioni rende quella string un pochino inutile perché poi posso solamente prenderla e visualizzarla ma quelle informazioni ormai le ho perse se invece le mantengo sotto forma di oggetti mi saranno sempre utili e voi mi dite ma è complicato la vita ma no che non è complicato la vita perché per stampare questo semplicemente dovrò stampare prendere println il libretto println il libretto farmi costruire un libretto nuovo quindi estrae i voti uguali a 28 e stampare quest'ultimo a livello di codice del metodo test libretto non cambia praticamente nulla non cambia praticamente nulla la differenza qual è? che questo stampa voti uguali già mi restituisce una string vedete qua c'è scritto string questo estrae i voti uguali invece mi restituisce un libretto genera un libretto me lo restituisce e poi la println chiamerà il metodo to string di libretto per stamparlo e il risultato sarà uguale se io rifaccio run di questo codice mi stamperà esattamente prima mi ha stampato il 28 usando il metodo stampa voti uguali e adesso mi stampa esattamente lo stesso output usando il metodo estrae i voti uguali che però come dicevamo mentre nel primo caso questa stringa può solo essere stampata questo è comunque un oggetto libretto che se volessimo potremmo usare in questo caso lo stiamo creando stampando e poi buttando via questo oggetto che abbiamo appena creato quando finisce questa parentesi tonda quando arrivo con il punto e virgola quell'oggetto non serve più perché non c'è più nessun riferimento che punta a quell'oggetto quindi la garbage collection di java prima o poi butterà via quella memoria la riciclerà però non è un problema in java in linguaggi oggetti si creano continuamente oggetti la cosa importante è mantenere l'informazione a un livello semantico elevato quindi ricordiamoci quella lì non è una stringa qualunque quello è un pezzo di un libretto e allora vogliamo che sia un oggetto di tipo libretto sembra un po' pedante fare questo raggiamento su un esercizio così semplice ma come vi dicevo ci serve per porre le basi prendere delle buone abitudini che poi ci torneranno utili quando andremo a lavorare su esercizi pochino più complessi per questa prima quindi tranche di esercizio io mi fermerei a questo punto abbiamo già imparato un po' di cose soprattutto su come ragionare sulla progettazione di oggetti come vedete qui non sto a discutere cos'è un metodo o cos'è un parametro queste sono cose che abbiamo già imparato nel corso di programmazione oggetti qui ci chiediamo come è meglio usarle le cose che già conosciamo come è meglio definire una funzione può definire una o un'altra ma in quale delle due forme mi è più utile costruire un metodo in quale delle due forme mi è più utile restituire un risultato questo è il tipo di ragionamento che ci dobbiamo abituare a fare che faremo lungo tutto il corso allora io interrompo questo video qua e poi riprenderemo nei prossimi giorni andando avanti sui punti successivi di questo esercizio fino a quando non lo completeremo lo vedrete sotto forma di versioni diverse con mit diversi che si aggiungono ovviamente al progetto che sarà pubblicato su github quindi avrete modo di vedere questo codice che abbiamo visto insieme via via crescere man mano che andiamo avanti con la soluzione ma il resto ovviamente dobbiamo aspettare al prossimo video grazie grazie a tutti